buongiorno a tutti il vangelo di oggi della ventiduesima domenica del tempo ordinario ci riferisce che si riunirono attorno a gesù scribi e farisei provenienti da gerusalemme stando a quanto riferiscono tutti e quattro i vangeli questo tipo di riunioni attorno a gesù accadeva sovente ma quasi mai con intenzioni pacifiche gesù e il vangelo che predicava erano un grosso problema per l'ordine religioso costituito bene nel testo di oggi vediamo questo gruppo muovere una contestazione a partire da una omissione come mai chiedono a gesù questi scribi e questi farisei i tuoi discepoli non fanno ciò che invece essi facevano scrupolosamente ossia lavarsi le mani le mille altre abluzioni prima di mangiare secondo la tradizione religiosa ed ecco con questa domanda può emergere il tema sempre attuale delle osservanze religiose esteriori della formalità della religione ma non corrispondenti queste osservanze a una religiosità che parta dal cuore umano ora la risposta di gesù a questa domanda non lascia adito a dubbi il signore denuncia apertamente evocando una profezia di isaia la lampante ipocrisia di questi scribi e di questi farisei essi dice gesù in vano rendono culto a dio insegnando dottrine che sono precetti di uomini e in questo modo aggiunge trascurano quello che veramente conta per dio e osservano soltanto tradizioni umane ma perché è un tema sempre attuale e la risposta è semplice perché è sempre più facile per noi uomini concentrare l'attenzione sui gesti esteriori è più facile curare dare importanza alla forma dei nostri atti religiosi piuttosto che verificare se nascono da un cuore autentico da un cuore aperto e disponibile a dio insomma molto meglio a mettere in discussione la forma che il cuore della religione ed infatti dopo aver messo al loro posto scribi e farisei gesù chiama tutti non solo loro chiama tutti ad ascoltarlo e a capire bene il suo insegnamento il problema che hanno scribi e farisei e di pensare che ci sia un'impurità incombente su chi non osserva meticolosamente i rituali religiosi e insomma che ci sia una impurità una adulterazione della propria fede che possa provenire dall'esterno dell'uomo e no gesù ribadisce con chiarezza sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro e lo dice come un'autorità aggiungendo subito un elenco di malizie che ci abitano nel cuore dunque il signore esige da noi una religione che sia attenta non alla purezza esterna rituale ma quella del cuore insomma la nostra fede o ci fa occupare seriamente del nostro cuore oppure non è autentica ricordo una volta di aver letto ciò che gesù confidò a santa faustina covalsca la prima santa canonizzata del nuovo millennio del terzo millennio e c'era scritto ci sono anime dice gesù a santa faustina per le quali io non posso fare nulla sono le anime che vivono fuori dal proprio cuore quelle che spiano continuamente le altre non sanno quello che avviene nell'intimo di se stessi povere anime che non ascoltano le mie parole restano vuote nel loro intimo perché non mi cercano all'interno del cuore ma fuori di sé nei pettegolezzi umani dove io non ci sono mai che ne dite molto chiaro il nostro maestro quando tutta l'attenzione è posta sulle osservanze esterne è praticamente inevitabile che si pecchi contro l'amore di dio perché si giudicano gli altri che non si comportano secondo ciò che per noi è importante nella religione come è facile fratelli ingannarsi in questo tema io ho tre salmi preferiti per così dire tre salmi davidici sembra che siano tutti e tre del re davide e sono come tre colonne mobili che sostengono il mio cammino di fede alla mia destra ho il salmo 102 che è un meraviglioso inno benedicente la misericordia immensa di dio alla mia sinistra ho il salmo 138 che è una confessione di fede nel mistero di dio in relazione al mistero della mia vita della mia esistenza ma davanti a me come suggerisce proprio questo stesso salmo io ho sempre il salmo 50 dove a un certo punto il salmista dice così crea in me o dio un cuore puro rinnova in me uno spirito saldo ecco davide aveva capito che l'autentica religione si gioca all'interno del proprio cuore e che questo essendo radicalmente peccatore ha bisogno di dio stesso perché diventi puro liberandosi da tutte le sue doppiezze e dalle malizie che lo abitano ora la buona notizia è che gesù è venuto per rendere possibile questo vero e proprio trapianto di cuore gesù si è lasciato trafiggere il cuore perché potesse diventare il nostro cuore come dio aveva già promesso attraverso la voce dei profeti ne cito una del profeta ezechiele vi darò un cuore nuovo metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne dunque a un certo punto del nostro cammino a noi la scelta o continuare nell'inganno di coltivare una religione rassicurante accomodante che fa leva sull'esteriorità dei nostri gesti oppure occuparsi del proprio cuore lasciando che dio lo possa risanare alla radice guarendolo dai suoi mali e rendendolo capace di amarlo e di seguirlo se uno sta veramente camminando su questa via allora comprenderà e farà comprendere anche agli altri le parole che troviamo nella lettera di san giacomo oggi alla seconda lettura quando dice religione pura e senza macchia e questa soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni e conservarsi puro da questo mondo cosa intende dire san giacomo con questa espressione che chi sta permettendo al signore il cambiamento del proprio cuore manifesterà nella sua vita questo tipo di amore cioè un amore di predilezione verso coloro che dio ama con amore di predilezione gli ultimi orfani vedove nelle loro afflizioni cioè quelli che non contano e quelli che sono gli ultimi nel vangelo e vivendo libero da questa mentalità del mondo che è nemica della verità e nemica di dio questo è il significato profondo questa è la grazia che dobbiamo chiedere al signore in questa domenica perché la nostra mente si trasformi come augura san paolo spesso ai suoi lettori nelle sue lettere la nostra mente si trasformi secondo il pensiero di dio e il nostro cuore ecco batta secondo il ritmo dell'amore di dio che ha dato la sua vita per tutti buona domenica a tutti